Ops a tutti, miei cari upsini e upsine, ma come state? Spero bene. Oggi sono qui solo per voi, per fare un video molto diverso dal solito. Ho voluto infatti fare questo video. Rispondo ai commenti degli haters in ASMR, però prima di iniziare devo fare alcuni disclaimer. Allora, faccio questo video in realtà principalmente per farci una risata insieme su alcuni commenti che ricevo sotto i miei video o i miei shorts. Non tutti sono degli hater, infatti forse un paio sono solo commenti strani. Ecco, ho voluto comunque metterli. Poi ho censurato il nome e la foto di questi hater in modo da rispettare la loro privacy. e poi in alcune foto magari vedrete perché poi ve le metterò o qua o qua, man mano che andiamo avanti. qualcuno che magari invece aveva scritto un bel commento, ho deciso di lasciare sia la foto che il nome utente. Ad ogni modo, questi commenti che vi faccio vedere non li ho cancellati, perciò se cercate ci sono ancora. ma basta dire altro e indossiamo subito un paio di cuffie o auricolari apposta per provare a rilassarci con questo video anche se è un po' diverso. Iniziamo col primo commento. Parto dai più recenti fino a quelli un po' più vecchi. Sotto il video, quello per il Pride, una persona scrive basta parlare, ti prego. Allora, esistono, quello che voglio dire è che esistono molti video che si chiamano no talking dove appunto la gente non parla. Se a te non piace sentire la voce di una persona, guarda quelli che secondo me sono stupendi. Un altro commento dice non mi hai fatto addormentare? Allora, qua inizia una serie di gente che scrive questa cosa. Allora, io voglio fare un attimo chiarezza. Allora, io all'inizio dei miei shorts dico come addormentarsi in 60 secondi. Ma poi, io sono sicuro che banalmente fisiologicamente una persona non possa addormentarsi in 60 secondi. Quindi se dopo 60 secondi non ti sei addormentato, non me lo venire a dire. Anzi, è molto più probabile che non ti addormenti. Io però provo comunque a rilassarti per farti avvicinare mano a mano a raggiungere questo sonno, ecco. Quindi mi dispiace che non ti ho fatto addormentare comunque. un altro questo che scrive o mer non continuiamo che cringe è sotto una persona con la faccia un po' tipo annoiata, scocciata. Amore, allora se è cringe banalmente non guardare quello shorts guarda qualcos'altro che magari rientra di più nei tuoi gusti la cosa bella è che sotto la persona che ha scritto il primo commento risponde al secondo commento con noi ragazzi mi dispiace che mi trovate cringe che vi posso dire cioè non lo so andiamo avanti questo qua dice il sistema nervoso sta scoppiando pianto muo entro nel telefono e ti picchio questa è un po' una minaccia in realtà però vabbè e cambia tiktok cioè cambia shorts vai avanti poi quando riuscirai ad entrare nel telefono fammi uno squillo e mi spieghi come si fa perché la vedo un po' dura cambiamo anche lato ogni tanto ah adesso abbiamo una serie di commenti in serie uno dopo l'altro ti botto una persona scrive adesso ti mando un bel calcio ma tipo per posta per mail non lo so un'altra mi fa come farmi pollire il sangue per l'irritazione mi danno un nervoso queste persone qui sono ridicole e fastidiose ma allora mi spieghi perché ti stai torturando in questo modo guardando i miei video se non ti piace la smr cambia video come farmi un cazzare in un secondo come avere il nervoso ragazzi ma allora siete masochisti che vi piace farvi del male la cosa più bella è che in mezzo a questi commenti Malika ciao Malika un bacio mi scrive a me sinceramente è piaciuto ed è stato molto rilassante ti adoro Malika andiamo avanti andiamo avanti sempre sotto lo stesso video ricevo anche sti video sono antipatici fanno venire il nervoso come farmi incazzare in mezzo secondo rispondo rispondo le stesse cose che ho detto prima andiamo avanti ecco ora il primo commento no sense questo sotto un video mi fa a a b c d e f g h i c k l m n a b q r s d u b x y z e abbiamo ripassato l'alfabeto questi i più belli ok è vero cosa ti posso dire di più la cosa bella è che c'è una risposta di una persona che è diventata tipo tra le mie preferite aiuto di questa rossa che fa e se lo fosse magari sarai tu allora io rossa ti adoro qua vedi che non ti ho messo il cuore ma dopo che ho fatto questi screen te li ho messi ha risposto a un bot di persone mi ha fatto morire da ridere eh amore che hai scritto il primo commento di risposto rossa andiamo avanti invece che bellissimo e bruttissimo non tutto può piacere a tutti che ti posso dire abbiamo tre risposte sotto questo tiktok questo shorts non è vero non è vero quindi alcuni mi hanno difeso poi c'è questo infatti che però io non capisco se è riferito al primo commento e quindi qualcun altro che dice che è bruttissimo oppure se è riferito a non è vero perché non posso vedere a chi è risposto ho voluto comunque censurarlo per sicurezza e poi un altro che fa sempre rossa acquerrita che fa bruttissima sarai tu io ti adoro sotto il video sotto il video quello per una notte stupenda qualcuno scrive ehi non si dice ma cosa ma cosa po non c'è soggetto un'altra persona scrive basta dai vestitio e in mezzo Caterina mi riempie di cuori ciao Caterina un bacio intanto il primo commento ha una risposta da parte di Ross che scrive tua sorella ho arreso un botto e il terzo commento ha cinque risposte appunto infatti vero a me viene il nervoso a me dà il nervoso e poi due persone che scrivono basta non seguirlo raga ci sta che gli smr non piacciono a tutti quello che dico io e poi a te da fastidio sottointeso di certo non a me quindi buono poi un altro commento che dice non mi sto addormentando con rossa guerrita che risponde e scorri ti devo conoscere Ross perché mi fai troppo scassare l'ennesimo che dice sì sto davvero dormendo ragazzi ma se continuate così ovvio che non vi addormentate voi c'è c'è un po' di interpretazione un altro dice addormentarsi perché noioso però almeno ti sei addormentato quindi alla fine il mio obiettivo l'ho raggiunto che poi se ti addormenti perché rilassando perché noioso alla fine ti sei addormentato quindi direi che comunque è andata bene questa persona sotto il video del binorale mi scrive no scherzi no non scherzo andiamo avanti sempre sotto lo stesso video una persona mi manda le faccine col vomito probabilmente aveva avuto un momento un po' di reflusso mi sa e un altro che scrive fai cagare e e e e e ho anche messo gli accenti al posto giusto la cosa più bella sapete qual è? è quel reply perché indovinate di chi è trossa che scrive ti sei descritto? Che altro c'è da dire? Aiuto. Quest'altra persona mi scrive J. Allora se tu volevi dire la lettera J è quella che si scrive così. Forse volevi commentare quella. Quindi J, 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 J. Andiamo avanti. Rimbambito. Un classico molto fine, delicato, mi fa scassare come il mio telefono non la riconosce come parola. Anche qui abbiamo una risposta, indovinate di chi è? Della mitica Ross che scrive ti sei descritto. Ha ragione. Andiamo avanti. Torno un po' su questo lato. Abbiamo quasi finito i commenti. Sotto quest'altro video qualcuno mi fa cringe. Oh, e c'è il secondo cringe che ricevo. E che ti devo dire? come dice Ross, scrolla o vai comunque a cercare qualcun altro. Cosa posso farci? Io sono fatto così. L'ennesimo che scrive sono sveglio. Amore, se sei sveglio vai sul letto, straieti, ti chiudi gli occhi e vedi che poi ti addormenti. Ultimo commento che è di questa persona che fa una domanda e voglio provare a rispondere. Mi fa sotto il video quello delle positive affirmation. Mi fa se lo fai per una domanda o gay. Se per far attormentare un uomo ci vorrebbe una voce femminile o sbaglio. Allora, e ora non mi ricordo se sei un lui o una lei. Credo una lei. Allora, è vero che magari per la maggior parte degli uomini per far rilassare ci va da una voce femminile. Ed è vero che magari per la maggior parte delle donne per farla addormentare ci va una voce maschile. Ma non per tutti così. Perché ci sono persone con gusti diversi o che banalmente trovano sicurezza nella voce di persone dello stesso sesso, magari più grande di loro. Basta anche banalmente pensare a come per un figlio la voce del padre sia un punto di sicurezza. E qui è lo stesso meccanismo. Io personalmente mi rilasso di più con una voce maschile. Ma neanche sempre. Perché io guardo molto spesso video ASMR femminili. Invece dipende tutto un po' a periodi. Quindi secondo me quello che dici può essere vero ma fino ad un certo punto. Perché generalizzare che dovrebbe essere così un po' a periodi per tutti. Credo sia sbagliato. Allora i commenti sono finiti quindi inizia a dire cu 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 cu. Ora tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo. Lascia un like, un bel commento questa volta. Diciamo che non fa piacere ricevere dei commenti del genere ma io non sono uno che se la prende. Quindi riesco a scherzarci sopra e sono più che tranquillo. Il video finisce qui ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio il mio video precedente, una mia playlist e il tasto per andare sul mio video per andare sul mio canale e vedere tutti i video che vuoi e anche shorts così che potrete addormentarvi in 60 secondi. Io vi mando un grande bacio e buonanotte Buonanotte